Rieccoci, rieccoci ben ritrovati, spesso alle nostre spalle, nella nostra bella scenografia vediamo un movimento, un movimento che dall'alto va verso il basso, è il movimento degli aerei che atterrano all'aeroporto Cristoforo Colombo, che movimento è stato nel 2013, che movimento sarà nel 2014? Beh, abbiamo in studio il presidente dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova per confrontarci con lui sui dati e le prospettive, il presidente Marco Arato ben ritrovato, buongiorno. Arato dunque, che 2013 è stato e soprattutto per il 2014 cosa ci dobbiamo attendere a livello internazionale ma anche a livello genovese e ligure insomma? Allora, il 2013 è stato un anno di passaggio, era cominciato malissimo, i primi tre mesi avevamo un meno 20% nei movimenti e nel traffico passaggeri, abbiamo ripreso nella primavera estate del 2000 di quest'anno e per cui chiuderemo l'anno con un meno 3, meno 4% che rispetto alle prospettive iniziali è un risultato soddisfacente. Tenete conto che noi fino al settembre del 2012 eravamo in crescita e che negli anni precedenti eravamo in crescita anche a due numeri e che siamo un termometro di come va l'economia perché bene o male l'aeroporto è un terminal e i passeggeri sono anche il termometro dello stato delle tasche dei cittadini. L'aeroporto è anche un termometro dello stato dei vettori. È chiaro che le turbolenze in Alitalia a noi fanno molto male, fanno molto male perché Alitalia spesso ha fatto cancellazioni cosiddette tecniche e ha ridotto drasticamente le rotte e sono previste ulteriori riduzioni di rotte anche nel 2014. Non è un mistero che una serie di vettori low cost da EasyJet a Ryanair a Whaling stanno cercando di spartirsi le tratte domestiche di Alitalia. Questo è un fenomeno preoccupante non tanto e non solo per il nostro aeroporto e abbiamo preso delle contromisure di cui magari parliamo tra poco, ma è un dato preoccupante per il nostro paese perché non avere un vettore di bandiera, come si diceva una volta, il vettore di bandiera una volta avere monopolio, comunque un vettore nazionale forte è un qualcosa che ci rende differenti da tutti gli altri paesi europei. Insomma c'è c'è Airways, c'è Air France, c'è Lufthansa, c'è Iberia, noi dobbiamo essere con orgoglio un importante paese europeo, dobbiamo avere un vettore importante. La crisi di Alitalia ci preoccupa ed è anche per questo che rispondendo alla seconda domanda che prospettive ci sono nel 2014, noi avremo la ripresa delle rotte internazionali del 2013 tutte, quindi Barcellona, Ibiza, Mosca, la continuazione delle tratte con Istanbul sette giorni su sette, quindi un volo al giorno, avremo l'immissione di Vailing con tre voli al giorno su Roma perché dobbiamo potenziare il collegamento con la capitale. Ecco, oggi il collegamento con la capitale come è garantito e come verrà incentivato nel 2014 grazie a Vailing? Allora, attualmente è garantito con i voli di Alitalia e con il volo di Small Planet. Nel 2014 noi sappiamo o meglio temiamo, perché informazioni precise non le abbiamo ancora avute, che ci siano ulteriori riduzioni di Alitalia ed è per questo che abbiamo chiuso un accordo con Vailing per prevedere tre voli al giorno con Fiumicino, tre andate e tre a ritorno. Vailing è un vettore diciamo low cost, non esattamente low cost perché si può prenotare anche tramite agenzia perché si prenota il posto, quindi non è esattamente low cost ma sicuramente è una tariffa ridotta e quindi cerchiamo di rispondere ai problemi di Alitalia. Teniamo conto che già l'aeroporto è collegato direi bene con tutto il sud Italia perché è collegato con Bari, con Catania, con due vettori, con Palermo, con Trapani, con Cagliari, con Napoli quindi i collegamenti ci sono e il problema è Alitalia che a noi preoccupa, ma non solo a noi, a tutti gli aeroporti italiani. Ecco, si è sempre detto che accanto alle crisi, le difficoltà del mercato aereo nazionale e internazionale, l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova aveva bisogno di maggiore collegamento con la città e dall'altra parte di una maggiore spinta turistica della città. Come va questo tipo di legame, questo rapporto? Poi arriviamo in particolare tra poco a un legame che in prospettiva dovrebbe essere molto importante, ma intanto in generale capologo Ligure, aeroporto e incentivi turistici. Allora, noi siamo un terminal e come terminal dobbiamo garantire il servizio a tutti. Sappiamo che la Regione ha stanziato nel proprio bilancio 2 milioni di euro per incentivare i vettori in tre anni. Sappiamo che la Camera di Commercio sta meditando di fare altrettanto, seppur con cifre meno importanti. Questi sono fatti decisivi. Noi abbiamo bisogno che il territorio si faccia conoscere. Le faccio un esempio. Proprio giovedì scorso abbiamo avuto il kick-off meeting, il calcio d'inizio della progettazione su cui arriveremo tra poco e c'era un funzionario della Commissione Europea che era estasiato di Genova e che non lo conosceva, non conosceva Genova, ma com'è possibile? E siccome a questa riunione c'erano Comune, c'era Regione, ha esortato tutti a dire, provenendo da Bruxelles dove il sole non lo vedono quasi mai neanche d'estate, ha detto, ma voi avete un paradiso, ma perché non lo fate conoscere? Allora questa è la domanda che dobbiamo porci e la quale dobbiamo dare risposte. Non nego che il Comune, la Regione, come da ultimo, pensa l'assessore Sivilla, pensa l'assessore Bellangeli, si stanno in modo intelligente ponendo rispetto a questo problema. Però dobbiamo muoverci, dobbiamo muoverci, dobbiamo capire che il baricentro del mondo si è spostato verso l'est, dobbiamo cogliere le opportunità che si pongono lì, ma soprattutto dobbiamo essere consci del fatto che non tutti conoscono Genova e Liguria. La cosa però che ci deve rincuorare è che quando la conoscono restano tutti estasiati. Quindi è un buon prodotto che va venduto meglio, questo è un po' il messaggio. Esattamente. E va ovviamente collegato meglio all'aeroporto Cristoforo Colombo perché si può fare sempre meglio e allora, proprio nei giorni scorsi, ne faceva accenno il Presidente Arato, si è presentato il progetto, da molti definito veneristico, per collegare l'aeroporto alla rete ferroviaria in grado anche di salire su alla colina degli Arzelli. Ecco qua cosa hanno raccontato i quotidiani nei giorni scorsi, dal treno all'aeroporto con la nuova cabinovia. Allora, quindi, aeroporto, treno e colina degli Arzelli, questi sono i tre punti collegabili con questo progetto. Che contorni ha questo progetto? Costi, tempi di realizzazione? Allora, questo progetto è rientrato tra i progetti finanziati dall'Unione Europea nel programma TNT. È un progetto quindi che ha ricevuto un importante avallo perché l'Unione Europea lo ha ritenuto meritevole di finanziamento, in quanto collega varie modalità di trasporto, il trasporto via aereo, il trasporto per ferrovia e il collegamento su rotaia o su filo come la cabinovia. Allora, io so che la gente ha sorriso, ma che idea è venuta di fare una cabinovia in aeroporto. Allora, intanto per cominciare, non è stata una pensata notturna di qualche spiritoso, no. Il collegamento con la ferrovia è importante. Noi abbiamo la ferrovia a 600 metri di distanza da noi, ma non siamo collegati. E questo è un grande vulnus in questo momento. Allora, un'opportunità è un vulnus come tutte le cose. Gli aeroporti dei di questo nome sono tutti collegati con la ferrovia. Anche noi dobbiamo essere. Punto. Anche perché collegandoci con la ferrovia ampliamo il bacino d'utenza, rendiamo più facile l'accesso e meno costoso l'accesso ai passeggeri. Punto. Come ci colleghiamo con la ferrovia? Allora, da questa nostra esigenza, dialogando con il Comune, dialogando con RFI e prendendo atto che le ferrovie lasceranno dei binari, delle tratte alla metropolitana leggera, quella che collegherà via superficie, utilizzando i binari del treno che saranno rilasciati rispetto all'uso del treno, in quanto ne vengono fatti degli altri, voltri al centro. Allora, in questo modo, le tratte più amare possibili saranno tratte della metropolitana. La ferrovia farà una fermata di Arzelli, che è tra Sestri e Cornigliano, fermata dalla quale transiteranno la metropolitana leggera, noi ci colleghiamo alla fermata. Perché con la cabinovia? Allora, è il mezzo meno costoso, perché avevamo pensato di avere una monorotaia sollevata, avevamo pensato a un tapirulano, avevamo pensato a un tram, ma poi, avendo condiviso con il Comune la possibilità che questo sistema salga agli Arzelli, un problema che non riguarda direttamente l'aeroporto, perché noi dobbiamo limitarci all'accesso alla stazione della ferrovia. Ecco, allora, che cosa c'è stato di meno costoso, meno impattante sul territorio della cabinovia? Anche perché la stessa cabinovia parte dall'aeroporto, arriva alla fermata di Arzelli, fa una curve e può salire, se il Comune è d'accordo, ma sappiamo che è d'accordo, al nuovo, lo chiamo quartiere, al nuovo insediamento degli Arzelli, in modo che dagli Arzelli si possa salire e scendere usando un mezzo pubblico e quindi, diciamo, modificando il ponente cittadino. La questione dei tempi e soprattutto dei costi, oggi è quello il tema principale di tutte le opere. Il costo della progettazione è di un milione e due, finanziato a fondo perduto per il 50% dall'Unione Europea. Tempi, gara per la progettazione fine estate 2014, dove individuiamo chi farà la progettazione, che sarà una progettazione pressoché definitiva, tempo di progettazione fine estate 2015, gara per la costruzione e la realizzazione nel 2016, inizio dei cantieri seconda metà 2016. So, perché la leggo nel pensiero, che tempi lunghi. Le rispondo. Questi tempi devono collegarsi con i tempi delle farovie, del rilascio delle tratte per la metropolitana leggera, perché non avrebbe senso che noi facessimo la cabina via che finisce nel nulla. Allora quindi, finché non c'è la previsione che queste tratte vengano liberate, e i tempi sono quelli che dicevo, per cominciare i lavori nel 2016, non ha senso. È un progetto che economicamente è tutto coperto? Allora, è coperta la progettazione, la costruzione, ci ha detto la Commissione europea, che potrà essere coperta da un finanziamento a fondo perduto del 20% della costruzione. Per la parte dell'aeroporto la costruzione è coperta, c'è la parte delle farovie, perché è chiaro che lasciare le tratte, costruire una fermata, so che sono coperti, però è un problema sul quale credo che sia meglio sentire le farovie. E allora, Arato, grazie intanto per averci spiegato questo progetto, per averci dato anche delle importanti anticipazioni. Ci fermiamo con gli approfondimenti dedicati all'aeroporto Cristopro Colombo di Genova e atterriamo virtualmente nel nostro paninsesto, continuando con gli aggiornamenti.